Mi trovo qui con Enrico Dago, rappresentante del CSI a livello provinciale. Ci farò un bilancio del CSI Cancia 7 di quest'anno, cosa è andato bene e cosa potrebbe migliorare anche visto l'anno prossimo? Iniziamo da dare due numeri, 65 squadre che hanno preso parte ai nostri campionati, più di 800 gare, quindi già questo la dice lunga su quello che è l'impegno che tutti dal Comitato Provinciale del CSI a tutti i dirigenti, a tutti gli atleti impegnati in questa attività, la mole di lavoro che c'è. Direi che è sostanzialmente andata bene con alcuni problemi, alcune negligenze, alcune mancanze, ma sicuramente anche con tante cose che hanno funzionato, quindi questo è un pochettino il bilancio. Poi si è chiuso stasera con una gran bella partita dove tutte e due le squadre hanno onorato fino in fondo la loro posizione e quindi anche questo sicuramente è positivo. Quello che si può migliorare per la prossima stagione si può sempre migliorare, quindi cercheremo di lavorare per migliorare ancora di più.